Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta soffice con fighi. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, zucchero semolato, uova, yogurt alla vaniglia, olio di semi, sale, lievito per dolci vanigliato, fighi, latte e vanillina. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e la vanillina ed azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 10. riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo le uova ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5. Aggiungiamo l'olio, lo yogurt, ed azioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità 5. Aggiungiamo i fighi il latte che deve essere tiebido, il latte che deve essere tiebido, il sale, il lievito e la farina ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5. Il composto è pronto, trasferiamolo in uno stampo del diametro di 24 cm. Mettiamo adesso i fighi. Spolverizziamo con zucchero di canna. cuocere in forno per riscaldato statico a 170 gradi per 40-45 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. la torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. torta soffice e confichi. grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti